Come mai qui a Sanremo? Ci siamo appena esibiti a una festival a Palazzo Roverizio e abbiamo fatto parte della nostra manifestazione, siamo venuti su perché stiamo già tornando tre tanni Siamo una tribu band di Roma, ci chiamiamo i 3S2Ks, sono tre tanni che sono tu Oh, tre tanni? Eh, grazie, grazie E' stata una buona E' questo momento tu